Ancora sbarchi di migranti sulle coste del Salento, intorno alle 2 della notte scorsa infatti un gruppo di 48 cittadini stranieri, tra i quali anche molte donne e bambini, è giunto a bordo di un'imbarcazione sul litorale Idruntino, nei pressi di Porto Badisco. Gli scafisti, dopo aver abbandonato il carico umano, hanno ripreso il largo facendo perdere le proprie tracce. Scattata la segnalazione si è subito attivata la macchina dei soccorsi. I migranti di nazionalità afghana sono stati rintracciati da agenti della polizia in varie zone a sud di Otranto. Si tratta di nuclei familiari. Il gruppo è stato condotto nel locale centro di accoglienza Don Tonino Bello per le procedure di identificazione. Sono stati tutti rifocillati per poi essere affidati al personale sanitario per le visite mediche ed eventuali cure. Tutti comunque sono in buone condizioni di salute. Scattate da subito le ricerche del natante sul quale il gruppo ha viaggiato. Ricerche che però finora non hanno dato alcun esito. L'intensità degli sbarchi sulle coste salentine prosegue dunque senza sosta, così come è ampliamente previsto, favorito anche dalle buone condizioni del mare, mentre le istituzioni sono chiamate a gestire i piani di accoglienza.